ciao noi siamo le super grandi se non ci seguite iniziate subito a seguirci e mettete nei casi a questo video e a quell'altro ciao adesso vi canto è una canzone un po' mista vai sarà perchè ti amo attenzione la lettera z vuol dire pausa pausa 1, 2, 3, 4 la 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 No, neri! No, neri! No, neri! No, neri! No, neri! Grazie a tutti. Grazie a tutti.